Dunque, i rimorchi sono a tutti gli effetti dei veicoli a sé stanti, sono dei veicoli privi di motore destinati ad essere trainati da altri veicoli, quindi sono indipendenti. I due veicoli agganciati, motrice più rimorchio, formano un complesso di veicoli. Naturalmente si può trainare solo un rimorchio per volta, non si può fare come le locomotive dei treni che hanno una motrice con tanti vagoni. Il complesso di veicoli, motrice più rimorchio, qualunque sia la motrice, potrebbe essere quindi anche un'autovettura, si chiama autotreno, quindi troverete anche questa terminologia. Quindi autovettura che trae un rimorchio, che sia un'autovettura, un autocarro o altro, diventa automaticamente un autotreno. Naturalmente i rimorchi, essendo veicoli a sé stanti, per circolare sulla strada pubblica come i veicoli con motore, devono essere immatricolati, cioè avere una loro targa. Vediamo, ecco, allora, una cosa importante da controllare per vedere se con il vostro autoveicolo, parliamo di autovettura in senso generale, perché probabilmente vi darete quella. Se potete trainare o no un rimorchio, lo dovete controllare sulla carta di circolazione del vostro veicolo, della vostra autovettura, che vi dirà anche la massa rimorchiabile di cui parleremo nel corso della lezione. E passiamo a vedere la differenza che è chiesta nei quiz fra diversi tipi di questi veicoli destinati ad essere trainati, che sono sostanzialmente i carrelli appendice, i rimorchi leggeri e i rimorchi non leggeri. Cominciamo con il carrello appendice. Il carrello appendice si chiama appendice perché è considerato un'estensione della motrice e quindi non viene chiamato rimorchio, cioè una volta agganciato a questa motrice diventa parte integrante della motrice, come se fosse una sua estensione, un tutto unico. Quindi non è considerato complesso di veicoli e quindi non è considerato un autotreno, per l'appunto. È come se fosse un veicolo tutto unico. Però questi carrelli appendice che sono destinati normalmente al trasporto di bagagli, attrezzature, eccetera, sono molto piccoli, molto leggeri, sono a un asse. La differenza con i rimorchi consiste nell'omologazione, a parte il fatto che devono avere determinate caratteristiche, cioè non possono sconfinare nella massa dei rimorchi perché sennò non potrebbero essere dei carrelli appendice. Tuttavia si può decidere se omologare questo veicolo da trainare come carrello appendice oppure no, nel caso in cui possa essere fatta una omologazione a nostra scelta, perché se lo omologo come carrello appendice, allora non sono soggetto, come vedremo, ai limiti di velocità degli autotreni, 70-80, fuori dai centri abitati 70, sull'autostrada 80. Se invece viene omologato come rimorchio, allora, indipendentemente dalla sua massa e così via, sarà considerato un veicolo a sé stante e quindi è come se prendessimo un rimorchio e quindi saremo soggetti a questi limiti. Nell'altro caso invece, trainando il carrello appendice, per esempio, non abbiamo limiti particolari, quindi i limiti sono quelli delle strade su cui si circola, per esempio l'autostrada 130, quindi se treno un rimorchio, 80 all'ora, se treno un carrello appendice, 130 sull'autostrada. La differenza sostanziale è questa dal punto di vista pratico. Poi abbiamo i rimorchi leggeri, anche questi chiesti nel quiz, quindi dovete saperli bene, distinguere. I rimorchi leggeri sono rimorchi a tutti gli effetti, ma non devono superare i 750 kg, mentre i rimorchi non leggeri sono quelli che superano i 750 kg. La distinzione è molto importante perché con la patente B voi potete trainare anche un rimorchio leggero, cioè fino a 750 kg, senza avere un'estensione di patente alla B96 o alla E. Quindi solo con la B già potete agganciare questo rimorchio leggero, anche se andate fuori di 750 kg dal limite massimo della patente B, che è 3,5 tonnellate. Quindi mettiamo che voi stiate guidando un piccolo autocarro di 3,5 tonnellate. Gli potete attaccare il rimorchio leggero, anche se sconfinate di 750 kg dalla massa massima complessiva della patente B, perché è leggero, ok? Se invece gli attaccate un rimorchio pesante, allora non potete comunque diciamo sconfinare da questa massa, andate poi a guidare dei veicoli che secondo la massa complessiva dei due potranno essere guidati con la patente B96 o con la patente E, ma quello lo vedremo poi parlando delle patenti. Vediamo un attimino i tipi di rimorchi chiesti nei quiz, che sono pochi, quindi tipi nel senso di proprio tipologie come caratteristiche, indipendentemente dalla massa. Allora, ci sono i rimorchi TATS, che sono per trasporto di attrezzature turistiche e sportive, per esempio le motociclette, le biciclette, il motoscafo, eccetera. Il rimorchio che si chiama caravan, destinato all'alloggio a veicolo fermo delle persone, che però durante la marcia devono alloggiare nella motrice, quindi non si può alloggiare nel caravan mentre si viaggia, contrariamente all'auto caravan che è un tutt'uno, quindi è un autoveicolo con motore a tutti gli effetti. E poi basta perché non ci sono altre richieste, quindi altri tipi di rimorchi non sono chiesti, quindi non state nemmeno a studiarveli. Vediamo le norme di comportamento specifiche per il traino dei rimorchi. Quindi, tasso alcolemico del conducente zero, indipendentemente dall'età, indipendentemente da tutto, insomma. Guidando un veicolo che trae un rimorchio non si può avere alcol nel sangue. Poi, se il mio complesso di veicoli, quindi motrice più rimorchio, supera la lunghezza totale di 7 metri, nelle autostrade e strade esterobane principali, quelle che potrebbero avere più di due corsie, quindi 3, 4, eccetera, questi veicoli non possono impegnare, se non le prime due corsie, la prima di destra è quella di marcia e poi quella immediatamente alla sinistra, la prima corsia di sorpasso, cioè non possono spostarsi sulle altre eventuali terza o quarta corsia perché sarebbero troppo lenti, sarebbero d'intraccio per quelli più veloci. Abbiamo detto che trenando un rimorchio, quindi non il carrello appendice, ma il rimorchio, non possiamo superare i 70 km all'ora sulle strade esterobane di qualunque tipo e gli 80 km all'ora sulle autostrade. Altre regole. Non si può lasciare in sosta nei centri abitati i rimorchi isolati, cioè staccati dalla motrice, se non negli appositi parcheggi. La revisione del rimorchio è a sé stante, quindi quando prima della scadenza della revisione dobbiamo farlo revisionare, è indipendente da quello della motrice, quindi non vanno insieme. Se non so, per esempio, se la motrice mi scade la revisione nell'anno 2021, mentre quella del rimorchio è nel 2022, si fanno separatamente le revisioni. Se il rimorchio è più largo della motrice, bisogna montare gli specchietti elettrovisori aggiuntivi che non devono spoggere, nel senso che può darsi che il rimorchio sia largo e quindi gli specchi della motrice non mi inquadrano la parte posteriore della strada, non devo spoggere comunque oltre 20 cm dalla sagoma del veicolo e poi direi che abbiamo detto tutto. Passiamo alla copertura assicurativa e alla targa. Allora, il rimorchio attaccato alla motrice è assicurato attraverso un'assicurazione stessa della motrice. Se lo lascio in sosta staccato dalla motrice, deve essere coperto da un'assicurazione propria che si chiama di rischio statico. Poi, il rimorchio deve avere una targa propria, sarà a fondo bianco, una targa propria perché può essere agganciato a diversi tipi di motrici compatibilmente naturalmente con la motrice, con la massa rimorchiabile, eccetera. Mentre il carrello appendice, non l'abbiamo detto prima ma adesso lo diciamo, ha una targa ripetitrice di quella della motrice a fondo giallo e quindi gli stessi dati identificativi di matricolazione della motrice vengono riportati sul rimorchio. Perché? Perché il, cioè sul carrello appendice, perché il carrello appendice, contrariamente al rimorchio, questo mi ero dimenticato di dirlo prima, ha questo, chiamiamolo così, svantaggio, ha dei vantaggi e degli svantaggi. Uno degli svantaggi è che può essere trainato solo da quella motrice di cui è carrello appendice, cioè appendice, non può essere trainato da un altro, non posso spostarlo trainandolo con altre motrici e quindi la targa che riporta è la stessa della motrice. Contrariamente ai rimorchi che invece hanno la loro targa e come abbiamo detto prima li possiamo spostare da una motrice all'altra e quindi questo è il vantaggio del rimorchio. Abbiamo, insomma, per l'una e l'altra categoria un po' di vantaggi e un po' di svantaggi. E passiamo al rapporto di traino. Che dovete capire bene, non è una cosa complicata, eh. Allora, cos'è il rapporto di traino? Naturalmente si parla in generale del rapporto di traino che può essere 0,5 oppure 1. Che cosa vuol dire? Il rimorchio trainabile con il rapporto 0,5 è quello che non ha nessun tipo di freno ed è un rimorchio leggero. Cioè, il rimorchio leggero senza dispositivi di frenatura propri non può avere un rapporto di traino superiore a 0,5. Cioè, non può essere contenuto nella motrice più di metà del peso della motrice, ok? 0,5 sarebbe la massima massima di questo rimorchio può essere la metà della massa della motrice che lo traina. Mentre 1 è riferito ai rimorchi che comunque non superano 3,5 tonnellate perché sennò non si potrebbe trainarli con la patente B, in questo caso B96 piuttosto che BE, eccetera. ma devono essere muniti di freno di servizio di cui parleremo tra poco. Quindi, il rapporto di traino 1 che vale per questi rimorchi sarà l'equivalente della massa della motrice. Quindi, il rimorchio con il rapporto di traino 1 pesa tanto quanto al massimo, naturalmente, tanto quanto la motrice. È ovvio che, sottolineiamo, questi rapporti di traino non valgono in senso assoluto. Io devo sempre controllare sulla mia carta di circolazione della motrice qual è la massa rimorchiabile. Queste sono le massime masse rimorchiabili per la categoria B. E andiamo a vedere brevemente il carico. Allora, valgono un po' le stesse regole che abbiamo detto parlando del carico delle cose sulle motrici, cioè sulle autovetture. Deve essere questo carico ben ripartito il più possibile sul rimorchio. Non essere spostato tutto indietro, tutto avanti e soprattutto non concentrato sugli organi di traino di cui parleremo tra poco, cioè sugli organi di aggancio alla motrice che sono quelli sul davanti, ovviamente perché se no si possono verificare troppi sforzi, troppi carichi e quindi l'eventuale rottura di questi organi di traino. E deve essere ripartito rispetto all'asse longitudinale del veicolo, sulla destra e sulla sinistra. Sarebbe meglio concentrare il più possibile al centro ma in ogni caso non deve gravare né troppo a sinistra né troppo a destra per non scompensare il baricentro e anche per non appesantire eccessivamente le sospensioni di destra piuttosto che quelle di sinistra, gli pneumatici di destra piuttosto che quelli di sinistra. E naturalmente, ultima cosa, non deve spostarsi per effetto delle curve, delle frenate e delle accelerazioni, sennò cambia il baricentro di tutto il complesso di veicoli. La sporgenza. Io non mi soffermerei troppo sulla sporgenza perché è la stessa che abbiamo detto per le motrici. Cioè, non può sporgere nessun carico da questo autotreno sul davanti ma solo sul di dietro nei limiti dei tre decimi della lunghezza della motrice. Cioè, praticamente il carico sporgente da tutte e due, quindi applicato sul rimorchio, non può essere più di tre decimi della lunghezza del complesso. Attenzione, però, sempre nei limiti di sagoma in lunghezza di quel tipo di complesso di veicoli. Cioè, una cosa è se traino con un'autovettura un carrello appendice piuttosto che un rimorchio leggero, diverso è se sto guidando un autotreno dove ho un rimorchio molto più lungo, molto più pesante su un agganciato a un autocarro, chiaramente. Però queste cose non ve le chiedono, queste misure specifiche e quindi ricordatevi solo la questione dei tre decimi. Sporgenza laterale uguale a quella delle motrici. Può sporgere lateralmente, si parla sempre di carichi indivisibili, quindi se il carico può essere diviso non può sporgere né lateralmente né posteriormente. Se invece è indivisibile perché se lo divido si altera, allora può sporgere anche lateralmente, ma non più di 30 centimetri per parte rispetto al centro delle luci di posizione posteriori. e andiamo a vedere le particolari difficoltà che si ha nella guida di un veicolo con rimorchio. Naturalmente, siccome devo trenare un peso maggiore, avrò un aumento dello sforzo del motore e un surriscaldamento del motore, quindi un aumento della temperatura del liquido di raffreddamento del motore. Avrò anche una maggiore criticità quando c'è del vento laterale perché c'è una maggiore superficie di impatto, quindi maggiore possibilità di avere degli sbandamenti laterali. E naturalmente anche in frenata dovrò stare più attento perché è maggiore la forza ribaltante in avanti. Maggiore difficoltà le avremo nelle curve dove la fascia di ingombro di cui abbiamo parlato quando abbiamo trattato dello sterzo, cioè degli organi che collegano il volante alle ruote direttrici anteriore, la fascia di ingombro è maggiore. Più lungo il veicolo maggiore è la fascia di ingombro quanto più io giro il volante fino al massimo grado di sterzata. Adesso naturalmente non mi soffermo sulla fascia di ingombro, vi rimando a quel video. Nelle frenate aumenterà naturalmente lo spazio di frenatura perché ho un peso maggiore e quindi ci metterò più spazio, più tempo a frenare, dovrò allungare la distanza di sicurezza dal veicolo che mi precede. Va bene, io direi che, vabbè, e poi, nelle accelerazioni abbiamo già parlato, nella discesa naturalmente io ho un peso nella parte posteriore che mi spinge la motrice in discesa e quindi avrò questa sensazione di essere spinto da dietro dal rimorchio che naturalmente grava sulla motrice per forza di gravità in discesa. Vediamo se c'è qualcosa da dire ancora, ma direi niente di particolare. Vabbè, voi non trasporterete normalmente dei liquidi nei serbatoi, però, tenendo conto che, insomma, dobbiate trasportare per caso dei liquidi nei serbatoi, i liquidi naturalmente si spostano durante il movimento e quindi in frenata per esempio avremo in accelerazione in frenata avremo degli spostamenti contrapposti e anche in curva per effetto della forza centrifuga, però direi che la cosa non è che vi interessi più di tanto. Passiamo quindi ai collegamenti fra motrice e rimorchio che sono tre. tanto per semplificarvi un po' la memorizzazione, il collegamento meccanico con gli organi di traino, il collegamento elettrico perché dobbiamo far funzionare le luci del rimorchio insieme a quelle della motrice e il collegamento della frenatura perché quando io freno con la motrice devo frenare anche con il rimorchio, quindi sono tre tipi di collegamento. Cominciamo con gli organi meccanici. Gli organi meccanici di aggancio del rimorchio alla motrice sono solitamente sulla motrice un gancio a sfera e sul rimorchio una calotta che si inserisce diciamo così sopra questo gancio a sfera. In questi organi di traino non devono essere presenti giochi, deformazioni, inclinature di nessun tipo perché se no dovrebbero essere interamente sostituiti, non si può fare delle saldature, riparazioni eccetera, devono essere omologati dal Ministero dei Trasporti, devono consentire un aggancio diciamo così piuttosto elastico nel senso che il rimorchio possa muoversi in senso trasversale longitudinale per certi diciamo fino a un certo limite rispetto alla motrice cioè non è un collegamento rigido perché se no se non potesse il rimorchio oscillare, spostarsi a destra e sinistra e in verticale si spezzerebbero facilmente gli organi di traino quindi non abbiamo un collegamento rigido ma un collegamento diciamo così che consente al rimorchio di essere mobile cioè gli consente sufficienti oscillazioni in senso verticale e movimenti in senso trasversale a destra e sinistra rispetto alla motrice Per quanto riguarda la pressione degli pneumatici del rimorchio è indicata sul libretto sulla carta di circolazione del rimorchio naturalmente avrà delle sue pressioni di gonfiaggio secondo il tipo di rimorchio che non saranno necessariamente uguali a quelle degli pneumatici della motrice bisogna sempre fare riferimento alla carta di circolazione Anche la marcatura dei pneumatici di cui abbiamo parlato quando abbiamo visto le ruote pneumatici potrebbe naturalmente essere diversa dalla marcatura dei pneumatici della motrice la marcatura è quella che identifica il tipo di pneumatico per le caratteristiche della larghezza altezza del pneumatico indice di velocità massima sopportabile e carico sopportabile da quelli pneumatici sempre guardare naturalmente anche per il cambio degli pneumatici per esempio per mettere quelli estivi e quelli da neve la carta di circolazione del rimorchio e passiamo ai freni allora e passiamo ai freni naturalmente parlando dei come abbiamo detto dei rimorchi dotati di propri organi di frenatura sostanzialmente si usa il freno a inerzia che cos'è questo freno a inerzia non è chiesto nei quiz la caratteristica meccanica dei freni a inerzia vediamo più che altro come funziona solitamente è idraulico come quello della motrice che abbiamo visto parlando degli organi di frenatura delle autovetture vorrei farvi capire soprattutto il concetto di freno a inerzia che cosa vuol dire vuol dire che praticamente questo freno entra in funzione per forza d'inerzia quando la motrice frena cioè quando la motrice frena praticamente si ha un avvicinamento del rimorchio alla parte posteriore della motrice e quindi questo freno è fatto in modo che ha una molla tarata all'interno degli organi di collegamento del timone insomma del rimorchio con la motrice in modo che la spinta che abbiamo del rimorchio contro la parte posteriore della motrice in frenatura vince la tarattura della molla e quindi il sistema intelligentemente capisce che deve mettersi in funzione per frenare anche il rimorchio perché se così non fosse per esempio in discesa noi avremmo con la spinta del rimorchio sulla motrice il rimorchio che continua a frenare tirando indietro la motrice e invece questo non deve assolutamente avvenire quindi praticamente abbiamo un effetto di frenata solo quando noi premiamo il pedale del freno della motrice tra l'altro appunto questa frenatura del rimorchio avviene con un lieve di ritardo rispetto a quella della motrice è solitamente un freno idraulico che funziona come i freni idraulici della motrice e mentre il freno di stazionamento che naturalmente deve avere anche il rimorchio come ce l'ha la motrice è di tipo meccanico perché per legge deve essere sempre di tipo meccanico cioè praticamente attraverso una leva noi si agisce sulle ruote del rimorchio con un tirante e teniamo in frenatura le ruote del rimorchio meccanicamente finché non le sganciamo abbassando la leva questo per una questione di sicurezza perché non potrà mai essere il freno di stazionamento di altro tipo poi abbiamo ecco questo freno di stazionamento è ovvio che deve essere azionato quando lasciamo il rimorchio in sosta sia che sia attaccato alla motrice sia che sia staccato a maggior ragione dalla motrice e poi abbiamo anche un freno di emergenza del rimorchio che mette in funzione il freno di stazionamento automaticamente se ci fosse per caso uno sgancio del rimorchio dalla motrice lo sgancio è un po' improbabile perché c'è un cavo d'acciaio di sicurezza che collega il rimorchio alla motrice nel caso che ci sia accidentalmente uno sgancio degli organi di traino di questo sistema della calotta con la sfera cioè il rimorchio in poche parole rimane attaccato con questo cavo d'acciaio e non se ne può andare per conto suo allontanandosi andando per conto suo rispetto alla motrice bene andiamo avanti con la manutenzione non dobbiamo usare mai elementi sgrassanti o aggressivi per pulire gli organi di traino che anzi dovranno rimanere ingrassati per ridurre l'attrito durante la sosta del rimorchio anche se non ci sono particolari quiz che lo chiedono lo vediamo lo stesso abbiamo già detto che dobbiamo azionare la leva del freno di stazionamento dobbiamo poggiare al suolo il ruotino pivotante di manovra che cos'è è quello che consente al rimorchio che ha normalmente nei veicoli come le autovetture soltanto l'asse posteriore di non inclinarsi tutto sul davanti e di rimanere dritto orizzontale dobbiamo sfilare dalla motrice o smontare e ripiegare il gancio di traino se non usiamo il rimorchio in caso di prolungata inattività dobbiamo se possibile mantenere gli pneumatici sollevati da terra applicando appositi sostegni sotto il telaio del rimorchio se non è possibile sollevarlo da terra bisogna aumentare leggermente la pressione di gonfiaggio degli pneumatici secondo le indicazioni della casa costruttrice per evitare di ovalizzarli siccome poi c'è un peso concentrato solo sempre nella stessa posizione si ovalizzerebbero gli pneumatici oppure semplicemente cercare ogni tanto di spostare il punto d'appoggio andando un po' in avanti e un po' all'indietro in modo da cambiare il punto d'appoggio di questi pneumatici sul piano in cui lasciamo fermo il rimorchio questo naturalmente se lo lasciamo fermo per un periodo di tempo molto lungo